Un saluto da Dr. Palmas qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca a Bocca Bionica. Come ti avevo promesso oggi, giù il velo dalla bocca bionica, quelli che sono stati nove anni di sviluppo e ricerca per la realizzazione della linea dentale più avanzata al mondo sui impianti dentali. Questo che vedi è un design che mi è stato inviato da New York. I nostri designer sono in giro per il mondo. Come ti ho detto, noi lavoriamo con la telemedicina. Questo permette di poter accedere ai migliori progettisti che sicuramente non ci vivono sotto alla clinica o vicino al palazzo. Noi possiamo accedere ai migliori, mandare, trasmettere loro i dati con internet dei nostri pazienti, quindi delocalizzare il design e ricevere indietro per approvazione quello che sarà il design che andremo poi a produrre. Qua sotto, ora stai per vedere quella che è la bocca bionica, giù il velo. Andiamo dritti a quello che è il risultato. Una simulazione del tutto indistinguibile di quella che è l'anatomia perfetta di una dentatura reale. Qua vedi che sono stati simulati i denti perduti di un paziente reale che esisteva, sono stati scannerizzati i denti e roboticamente sono stati riprodotti i suoi denti. Sono materiali questi che simulano i materiali della natura. Ti faccio vedere per esempio qua la traslucenza di questa arcata in zirconio, sostenuta da titanio. E andiamo a vedere cosa c'è dentro. All'interno di questa arcata c'è tanta tecnologia, come ti ho anticipato. Questi denti sono stati realizzati con protocollo di telemedicina. È un quadrimateriale. Abbiamo denti che sono realizzati in zirconio. Sono delle copie fedeli identiche di denti reali. Ed è un'arcata avvitata. Come puoi vedere esistono dei fori che servono proprio a far passare quelle che sono le viti per fissare poi l'arcata bionica nella bocca del paziente. Sotto queste arcate hanno una struttura al loro interno che è un polimero ad alte prestazioni. Ti faccio vedere quello che è il peso della struttura interna che regge questi denti. Questo polimero serve a creare un cuscinetto stress assorbente tra gli impianti e i denti. Gli impianti dentali non hanno un legamento che ammortizza durante la masticazione e hanno per questo queste bocche necessità di un cuscinetto elastico che vada ad attutire gli stress masticatori. È un cuscinetto elastico che ha il peso di appena 3,87 grammi. Siamo al di sotto dei 4 grammi. Quindi un polimero davvero leggerissimo. Questo polimero ha lo stesso grado di flessione delle nostre ossa del corpo umano. Al di sotto di questo polimero, ti faccio vedere direttamente qua sul modello, troviamo una struttura in titanio, una struttura che dà resistenza e che serve a unire l'arcata a quelli che sono gli impianti dentali che stanno nella bocca del paziente. La bocca del paziente è ora provvista di radici artificiali sopra le quali possiamo andare a posizionare quella che è l'arcata artificiale. A questo punto potrà essere questa arcata fissata all'interno della bocca del paziente andando a stringere le viti che uniranno l'arcata appunto agli impianti dentali. Questo tipologia di costrutto viene fatto completamente in digitale. significa che noi possiamo andare a costruire digitalmente con il computer quella che è la forma della dentatura che andremo poi a realizzare. Una volta che ci viene realizzata la tridimensionalità della barra interna è possibile anodizzarla. Noi la possiamo anodizzare con una speciale procedura chimica. Possiamo andare, potremmo dire, a passivizzare la superficie del metallo. Ma cosa ancora più avvenieristica qua in Moldavia siamo riusciti addirittura a unire col titanio oro. Bensì non protesi vendute a peso d'oro ma noi nelle protesi ci mettiamo anche l'oro. Questa è un'anteprima assoluta mondiale la stiamo oggi divulgando qua con voi e sono felice di quello che è il risultato ottenuto in questi nove anni dal nostro centro sviluppo e ricerca. Le arcate vanno poi a simulare quelli che sono stati i tessuti perduti dal paziente di sostegno alle radici quindi dobbiamo anche simulare le gengive e abbiamo quattro materiali quindi titanio, sopra posizione aurea polimero stress assorbente zirconio e composito per simulare le gengive. La natura è un qualcosa di perfetto di molto sofisticato impensabile cercare di simulare la natura utilizzando pochi materiali purtroppo i materiali artificiali che oggi utilizziamo tutti presentano dei difetti il segreto è utilizzare più materiali sfruttare i pregi di tutti i vari materiali che vengono utilizzati e cercare di annullare i difetti dei vari materiali. Io ti faccio un saluto ora mi teletrasporto alla conferenza e goditi questa serata.